Un cordiale saluto ai nostri telespettatori di Telerama, ma anche a chi ci segue nelle repliche su Telesalento, consueto appuntamento di controvento. Oggi parliamo della donna, perché 8 marzo, come sapete, è la cosiddetta festa della donna, che poi in realtà è la giornata internazionale per la donna, che ricorre ogni anno l'8 marzo per celebrare le conquiste sociali, economiche e politiche, ma anche le discriminazioni ancora esistenti e anche le violenze a cui le donne purtroppo sono state e sono ancora oggetto in quasi tutte le parti del mondo, purtroppo anche nella nostra terra. Di questo oggi vogliamo parlare con le nostre ospiti, donne impegnate in politica, ma ovviamente anche in famiglia e nelle professioni. Ve le presento Giuliana Coluccio, consigliere comunale di Melpignano, insegnante, buonasera. Pamela Lecci, consigliere comunale di Matino, oltre che avvocato, è poi impegnata anche lei in tante altre realtà dell'associazionismo, è stata già assessore a Matino, Luisa Midelli di Galatone, informatore medico scientifico e dirigente di partito, e Manuela Stefani, consigliere comunale di Aradeo e ingegnere. Grazie di essere con noi, è una giornata in cui ovviamente si parla di mimose, si parla di festa, il mondo del commercio ha ormai usurpato questa giornata, facendo diventare soprattutto un momento commerciale. Le donne che vanno in pizzeria da sole a festeggiare, gli spogliarelli, le mimose, quindi banalizzando questo momento importante, che invece è una riflessione sulla condizione della donna, su come ancora oggi ci sia bisogno di leggi che permettano l'accesso nel mondo del lavoro, della politica, delle istituzioni alle donne con delle corsie preferenziali, altrimenti si è visto che anche ancora adesso nel 2018 è difficile per la donna accedere in parità di condizioni con l'uomo, e poi ancora per il discorso della violenza, un discorso così grave che ha avuto fatti eclatanti, che ha riguardato anche giovani ragazze nel nostro territorio, atroci, terribili, e oltre alle violenze continue nelle famiglie purtroppo, le violenze domestiche, e un tema che ancora oggi nel 2018 purtroppo è di strettissima attualità. Di questo vogliamo parlare per capire se ha un senso istituire questa giornata, se non è un discorso commerciale, ma è un discorso di approfondimento su questi temi, probabilmente ha un senso, ha fatto bene quindi l'ONU a voler istituire questa festa, la festa che risalirebbe a un momento storico gravissimo secondo l'immaginario collettivo. Il primo esempio di fake news, come si dice, di notizia falsa e diffusa. Si parla dell'incendio di un'industria tessica di New York dove le operaglie morirono tutte perché il proprietario le chiuse dentro. Il fatto non è mai avvenuto in realtà, è una notizia che ancora purtroppo si commenta anche a livello importante, poi di questo sindacale come reale, in realtà non è mai avvenuta. Ci sono degli eventi storici, un incendio ci fu in realtà in una fabbrica un 8 marzo, morirono non solo le donne ma anche gli uomini, soprattutto immigrati allora in America e quindi ebrei e italiani in prevalenza. Nel momento, il primo 1900, quando l'immigrazione verso gli Stati d'America era molto forte anche in Italia. Da questi momenti diversi, anche da una manifestazione pubblica per le donne che vedevano il voto, quando i poliziotti usarono il manganello in modo indiscriminato, facendo anche danni gravi dal punto di vista fisico ad alcune donne, questi vari momenti poi nell'immaginario collettivo sono diventati il momento eclatante dell'incendio delle operaglie morte. Ma al di là di quello, probabilmente è vero che ci sono state tante lotte delle donne negli anni passati e ancora oggi, ripeto, probabilmente c'è bisogno di riflettere e di parlare. È vero, lo chiediamo ai nostri ospiti. Allora, Giuliana Coluccio, c'è bisogno di parlare ancora di questa giornata della donna e perché, secondo lei? Sì, senz'altro è importante non commercializzare la giornata della donna, ma sensibilizzare, perché i problemi che ruotano intorno alla figura della donna sono ancora tanti. I dati poi parlano chiaro, perché ci sono ancora tante situazioni di precarietà nella condizione della donna sia nell'ambiente del lavoro. È vero che sono state introdotte le quote rosa nelle imprese all'interno delle pubbliche amministrazioni, ma anche in politica, ma sono delle quote rosa ancora con delle percentuali non alla pari di quelle dell'uomo. Se prendiamo ad esempio la legge ultima elettorale con la quale abbiamo votato domenica scorsa, il Rosatellum, che prevedeva che nei collegi plurinominali ci fosse una quota rosa di donne, due uomini con due donne, alla fine abbiamo visto che per la maggior parte dei casi nei collegi sono stati piazzati nei primi due posti gli uomini a discapito delle donne. Allora dobbiamo cercare veramente di sensibilizzare e di lottare tutti insieme per avere una rappresentanza di donne all'interno della politica, in questo caso, alla pari di quello dell'uomo, ma lo stesso vale negli incarichi delle professioni. In certe professioni sono più i ruoli che vengono attribuiti agli uomini e meno alle donne. È anche vero, e oggi leggevo un articolo sul quotidiano che da all'incirca vent'anni fa citava il quotidiano di Puglia che la donna è entrata nella carriera militare e questo è veramente importante conne dando, attribuendo alle donne dei ruoli di comandante. Abbiamo un comandante all'interno dell'arma dei carabinieri che dichiarava che a volte ha avvisato momenti di disagio perché si trovava a dare degli ordini a uomini più grandi di età di lei, però con il massimo rispetto. E allora la donna ha dimostrato in questi anni di essere capace di svolgere dei ruoli veramente all'altezza di quelle che sono le esigenze della società o del mondo del lavoro e non vedo perché ci deve essere la competizione, non la parità di genere, l'uguaglianza perché la diversità non deve essere assolutamente diseguaglianza ma deve essere ricchezza e un valore aggiunto. Le donne insomma hanno fatto passi davanti, adesso le ragazze possono indossare i pantaloni e le minigonne tranne i casi in cui purtroppo di violenza selvagge in alcune periferie delle nostre città che ancora sono oggetto di cronaca. Le donne lavorano, sono indipendenti, purtroppo hanno anche il doppio lavoro, quello della famiglia e quello della propria professione, non sempre è facile per una donna riuscire a gestire entrambi i momenti e gli uomini ovviamente lasciano alle donne gli incarichi casalinghi e quindi questo diventa un doppio peso per le donne soprattutto se hanno anche dei bambini. Quindi in Pamela Lecci c'è ancora bisogno di riflettere su questi temi anche se io penso che raggiungeremo un momento di equilibrio quando non ci sarà bisogno più di quote quando finalmente uomini e donne potranno in modo paritetico accedere anche ai vertici delle istituzioni, alle dirigenze delle aziende, nei luoghi apicali diciamo senza bisogno di istituire delle quote per legge. Credo che sia giusto quello che dici, è vergognoso che debba esserci una legge per garantire la presenza di una donna a livello istituzionale come diceva la collega nelle istituzioni, nelle amministrazioni o nelle società. Questo è proprio una povertà sociale che deve essere gridata ad alta voce perché comunque se una donna come è stato detto prima il valore lo ha dimostrato e lo dimostra forse ecco io ci tengo tanto a dirlo, lo dimostra quotidianamente anche la semplice donna che si occupa della famiglia quindi gestire i figli, gestire la casa, occuparsi del lavoro perché non in casa familiare domestico perché non può anche non può dare come dire valore anche non può essere considerata anche come donna lavoratrice. Quindi è difficile molto conciliare questi aspetti perché tutto ricade sulla donna purtroppo le istituzioni non ci aiutano molto in questo. Molto è stato fatto ma molto si deve fare ancora a livello legislativo perché di fatto ancora nelle aziende è impensabile vedere la donna che lavori tante ore poi tantissime ore in un'azienda poi deve tornare a casa, deve occuparsi del figlio, deve occuparsi del marito e questo va a danno anche della famiglia perché reprimere diciamo e aggravare la situazione e soccombere per la donna significa anche vedere una famiglia distrutta, sono convinta di questo. L'educazione dei figli, come no soprattutto. Quindi diciamo che l'istituzione dovrebbe ancora fare tanto le leggi in Parlamento non sono ancora abbastanza. È vero come abbiamo detto prima che non basta una legge per o meglio è brutto che sia una legge a garantire la presenza di una donna in un contesto lavorativo politico però visto che ce n'è la necessità ben venga. Poi come dire il ruolo della donna o meglio l'approccio che viene dato sulla figura della donna nel lavoro, nella politica è anche una questione culturale credo io, no? Perché la donna che viene vista soltanto è relegata, la donna che viene relegata sempre come donna che si deve occupare solo della casa, solo dei figli. Questo è un fattore culturale e quindi bisogna promuovere una politica, una cultura diciamo che aiuti a eliminare questa discriminazione ecco perché non si tratta soltanto questa discriminazione di genere. La donna ha un valore ovunque, se vale, se riesce a gestire una famiglia come madre, come moglie, come casalinga perché non può essere un'ottima lavoratrice? Basta soltanto avere intorno una società che sostenga la donna a fare un po' tutto questo, fare anche politica perché no? Diciamo che per fortuna in Italia passi da gigante sono stati fatti, non siamo più alla commedia italiana del dopoguerra quando la donna era vista come la segretaria amante del capo al massimo e che non potesse avere un ruolo all'interno della società del lavoro, delle professioni. Diciamo che non è più così, però forse c'è ancora da fare Luisa Milelli? Questa giornata è importante, occorre ancora riflettere sulla donna? Certamente, c'è davvero tanto da fare ancora perché è vero che di battaglie ne sono state fatte davvero tante, però sicuramente sono molte le problematiche che ancora devono essere risolte e io spero che nei prossimi decenni la politica possa realmente dare anche una mano in questo perché purtroppo vediamo che ancora la società di fatto in parte continua a essere maschilista perché purtroppo la donna ancora viene vista un po' come diciamo come dire il sesso debole in un certo senso quindi c'è questo fatto che spesso le cose più importanti vengono sempre considerate da pannaggio degli uomini anche se abbiamo già avuto tanti ruoli importanti anche a livello politico, amministrativo, nella società credo che ci sia ancora tanto da fare e quindi il passato sicuramente dimostra che sono molte le cose che sono state fatte ma ancora sono tante quelle che devono essere fatte sicuramente quindi ragionare l'8 marzo ha un senso ancora? ha un senso ancora perché ovviamente bisogna ricordare quello che è successo la motivazione per cui si festeggia l'8 marzo diciamo che poi tutto sommato anche se è una festa in realtà dobbiamo solo ricordarci che è il giorno per commemorare una terribile tragedia sicuramente quindi dovremmo anche cercare di staccarci un po' anche da questo concetto perché ormai oggi questo 8 marzo è un po' una festa solo per commercializzare, per fare business in realtà però c'è ben altro sotto su cui dovremmo realmente riflettere quindi non solo mimose e cioccolatini assolutamente no e pizzerie con le amiche assolutamente no Manuela Stefani, il senso di questo 8 marzo oggi nel 2018? allora sicuramente cioccolatini e mimose almeno io non ne ho ricevute perché i miei uomini ne è mai andata diciamo nei locali solo donne sì è vero che la giornata di oggi è importante ma io spero che venga vista in un'ottica veramente diciamo molto più generale perché oggi si ricorda un evento triste però io invece la vedo più un inno alla donna nel senso alla donna che ha ancora tanto bisogno di aiuto io parlo anche ora diciamo molto è stato già detto parliamo anche della violenza che viene fatta diciamo sulle donne io questa giornata la vedrei anche e fondamentalmente come la giornata che abbiamo festeggiato ricordato il 25 novembre sulla violenza sulle donne cioè io la vedrei più una concentrazione di cosa stiamo facendo per cercare di migliorare la situazione della donna che purtroppo vive lo dicevi prima vive delle situazioni familiari purtroppo c'è il femminicidio si sente anche nelle nostre i nostri paesi ogni giorno noi accendiamo la televisione e vediamo un fatto di cronaca che ci destabilizza ragazze anche molto giovani la ragazza di 18 anni la ragazza che abbiamo avuto noi la Durini di 16 anni Noemi Durini di specchia è sicuramente il caso di cronaca più grave di questi ultimi tempi e io credo che dobbiamo veramente io parlo anche come madre di una ragazza di 17 anni e mezzo quindi insomma di ragazzi giovani dobbiamo comunque fermarci e veramente chiedere alle istituzioni aiuto noi abbiamo bisogno di aiuto per cercare di inquadrare i ragazzi noi lo dobbiamo fare come genitori è chiaro cioè la prima responsabilità è nostra infatti quando io ho sentito alcune interviste per carità massimo rispetto però quando si sentono delle interviste magari anche su quotidiani dove si dice che i ragazzi a 16 anni sono in giro tornano la notte sono sempre molto diciamo hanno una vita come se vivessero una vita con i ragazzi di 25 anni non è giusto noi genitori dobbiamo saper dare delle direttive giuste per cercare di limitare quantomeno situazioni diciamo di come dire che poi potrebbero portare a complicazioni importanti in base a questo dobbiamo chiedere aiuto alle istituzioni perché io sono stata ad alcuni incontri contro la violenza sulle donne e si parlava di quello le donne annunciano dicono il mio uomo io sto per lasciare il mio uomo che è violento voi che aiuto ci date? e purtroppo la donna è veramente sola me ne sono resa conto nei nostri paesi ci sono delle realtà io sono entrata in un mondo che non conoscevo ma effettivamente è così cioè molte donne chiedono aiuto noi dobbiamo riuscire a trovare il modo di aiutarle e reinserirla nella vita sociale cioè oggi faccio una battuta oggi ero al supermercato ho fatto la spesa mi è stato regalato per la festa delle donne un canovaccio io ci sono rimasta male ho detto per carità grazie alla ragazza me lo regalava ma la donna io avrei preferito un rossetto cioè per dire no avrei preferito un regalo più consono alla mia persona non come io per carità a casa non mi aiuta nessuno faccio tutto sola quindi non è quello il problema però ecco noi anche alla donna che ha questo problema serio che è sola che è in una casa lontana dalla sua famiglia con i suoi figli per proteggerli perché succede questo a quella donna noi dobbiamo dare dobbiamo farla risentire di nuovo donna perché è molto vulnerabile quindi dobbiamo aiutarla in questo lei dice uno dei temi forti di cui parlare è quello della violenza in realtà sono due le giornate internazionali che l'ONU ha voluto istituire quella dell'8 marzo e poi quella del 25 novembre la giornata contro la violenza sulle donne ovviamente lei dice anche l'8 marzo deve essere un momento per ritornare su questi temi quelli della violenza che sono sicuramente i fatti più gravi Giuliana Coccio è vero noi abbiamo avuto il caso lo avevamo citato di Noemi Durini a specchia giovane massacrata dal suo fidanzato forse morta dopo essere stata lapidata ricoperta di pietre ma anche il caso della cronaca nazionale del carabiniere che ha ucciso le due bambine e ha ridotto in fin di vita la moglie quindi casi che esistono quotidianamente e non sono solo gli immigrati nigeriani come l'altro caso della Pamela la ragazza probabilmente tossicodipendente che è stata di tua fatta a pezzi e messa in due trolley cose veramente che inimmaginabili quindi come vedete la cronaca ci racconta che la violenza sulle donne più che sull'uomo è molto diffusa e quindi è ancora un tema su cui parlare e riflettere con grave attenzione voglio dire non con superficialità sì infatti negli ultimi gli ultimi dati ci dicono questo che ormai la violenza sulle donne tocca tutti non c'è distinzione di età non c'è livello economico dove non si possa verificare una situazione di violenza sulle donne condizione economica quindi livello di istruzione questione di età in ogni livello ci possono essere donne che subiscono violenza e la cosa più grave è quando questa violenza avviene all'interno delle mura domestiche a volte i casi di crone che ce lo dicono a volte le donne non riconoscono subito la violenza che subiscono e allora la subiscono e spesso come è successo adesso con il caso del carabiniere si ripercuote sui figli allora le donne non vanno lasciato sole le istituzioni la politica deve dare una risposta soprattutto in questo periodo di tagli del bilancio pubblico delle ultime politiche di austerità che non danno la possibilità sono nati dei centri antiviolenza ma senza risorse economiche come si fa ad aiutare una donna a dare protezione ad una donna allora nonostante le denunce che molto spesso sappiamo che la donna fa ha il coraggio di fare superando a volte anche la vergogna perché dobbiamo mettere in conto anche questo o la protezione verso i propri figli riesce a denunciare il suo uomo il suo compagno perché non stiamo parlando di un estraneo di un nemico ma di una persona con la quale lei ha vissuto per anni e subisce questa violenza e nel momento in cui cerca aiuto quasi quasi non viene neanche creduta o se viene creduta nessuno la protegge e allora veramente questo oggi che dobbiamo gridare l'8 di marzo il 25 di novembre veramente alle nostre istituzioni l'aiuto alle donne perché quotidianamente o settimanalmente ci sono vicende di cronaca che ci raccontano di una tragedia familiare ci fermiamo per la pubblicità poi ripartiamo proprio dalla violenza sulle donne dalle leggi attuali da come tuteliamo la donna pensate la donna senza reddito costretta al ricatto probabilmente anche economico dal marito violento e prima di lasciarlo ci pensa tre volte perché dove andrà a vivere questa donna con i figli riuscirà a sopravvivere non avendo per esempio una fonte di reddito e il discorso è anche culturale forse bisogna ricominciare dal mondo della scuola ne parliamo fra un attimo pochi istanti di pubblicità grazie a tutti